Ogni libro, ogni stampa ha la sua storia, la sua vita, vissuta con l'artista, il poeta, lo scrittore, il drammaturgo e ogni libro è legato alla vita della stamperia perché un artista o poeta da solo non fa un libro, perciò siamo noi in collaborazione con i diversi personaggi a completare questa opera e questo manufatto, così si dice, nasce soprattutto in base alla passione, se vogliamo dire così, la passione, la volontà o il piacere o il gusto di fare questo libro, questa stampa con l'artista e i diversi personaggi dove un libro richiede un diverso personaggio. Noi lavoriamo per tutti quelli che amano incidere, perciò artisti e non artisti, da qui sono passati naturalmente tanti artisti, come passato e passa gente che ha il piacere di incidere, se poi uno è un artista che ha un mercato, che ha una venda, che ha riconosciuto in tutto il mondo, va bene, stampiamo anche per loro e stampiamo bene. Il piacere è anche questo qui, quello di lavorare anche con sproveduti o gente che ha il piacere di trovarsi una matrice di rame dove fa sul disegno. Allora, edizione abbiamo fatto a stampa di molti artisti, sono qui presenti e basta guardarle, vederle e amare queste opere, fatte 30-40 anni fa fino a oggi e in questa attività di stamperia abbiamo anche lavorato per conto terzi, per diversi editori straniere, italiani, lavoriamo per tutto il mondo, continuiamo a lavorare così e contiamo sulla presenza nel nostro studio di molti collettoristi amanti della stampa e propagandiamo per il bene della stampa. Grazie a tutti.